Ciao a tutti, oggi sono qui con un nuovo video, video diciamo abbastanza veloce perché voglio fare dei biscottini al miele, sono semplici, con neanche tanti ingredienti in realtà, che vi dico subitissimo, abbiamo bisogno di 200 g di farina, un tuorlo, 125 g di burro, 50 g di fecola di patate, 2 cucchiai di miele che sono all'incirca 50 g, 2 bustine di vanillina e un pizzico di sale, questi qua sono tutti gli ingredienti quindi possiamo iniziare prendendo la farina, mettendoci all'interno la fecola, le due bustine di vanillina e un pizzico di sale, amalgamiamo un po' con le mani tutti gli ingredienti secchi e a questo punto ci aggiungiamo il burro che io ho tagliato a pezzettini, aggiungiamo un po' e iniziamo ad amalgamare schiacciando il burro con le dita in questo modo qua e aggiungiamo altro burro e continuiamo così fino a finirlo tutto. Ok dopo aver ottenuto questo praticamente bricioline di ingredienti che si secchi più il burro dobbiamo aggiungere gli ultimi due ingredienti cioè il tuorlo e il miele e amalgamiamo bene il tutto. Ok dopo aver formato questa pallina di pasta se nel mentre che impastate vedete che la pasta è troppo molle aggiungete un pochino di farina se invece risulta troppo dura e non riuscite a impastarla aggiungete un filino di latte e così dovrebbe andare bene io sono riuscita a farla normalmente senza aggiungere niente però se voi dovesse capitare appunto vi ho dato le indicazioni giuste. Ora la mettiamo dentro una pellicola trasparente la chiudiamo e la mettiamo in frigo per circa un'oretta. Passata l'ora iniziamo a formare i nostri biscottini ok dopo un'ora la nostra pasta ormai l'ho tirata fuori ed eccola qui. Ora cosa facciamo? prendiamo delle piccole palline con la pasta le mettiamo nella teglia e poi schiacciamo con una forchetta da una parte e dall'altra. aggiustiamo un po' così rimane otorta ed ecco il nostro primo biscottino. Quindi continuiamo a prendere la pasta fino a finirla completamente facendo prima appunto la pallina la mettiamo sulla teglia e schiacciamo da una parte e schiacciamo anche dall'altra. Ok eccoli qua ne sono venuti 25 precisi e alcuni sono venuti meglio altri peggio come questo ma non importa tanto basta che siano buoni. Ora li mettiamo in forno a 160 gradi quindi forno premiscaldato ovviamente a 160 gradi per circa 15-20 minuti dipende un po' sempre dal vostro forno come vi dico sempre comunque 15-20 minuti o comunque quando si saranno un pochino dorati in superficie. Quindi ora li metto in forno e ci dividiamo dopo con i pronti sfornati, con i biscotti sfornati. Ok ecco qua i nostri biscottini pronti sono stati in forno per 23 minuti li ho lasciati 3 minuti in più perché erano ancora un po' bianchini ho voluto farli diventare un po' più scurini così sono più carini quante volte ho detto bianchini scurini carini vabbè e quindi li ho appena tolti dal forno sono ancora molto caldi però questo qua si è già rotto volevo farvelo vedere comunque guardate adesso comunque sono ancora un po' morbidini quindi si spezzano tutti però volevo assaggiarne uno anche se è caldo non importa sono sempre buoni assaggiamo davvero buoni come avete visto sono facilissimi da fare veloci da cuocere davvero ve li consiglio tantissimo poi se volete fare altre forme siete lì bellissimi di farle io ho deciso di farli così in questo modo perché non volevo fare le solite formine a cuore a quadrato cerchi eccetera però poi appunto potete liberare la fantasia quindi spero che questa recentina vi sia piaciuta fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti mi raccomando iscrivetevi al canale perché siamo arrivati a 1800 e io continuo ogni video continuo a dire che non ho parole ma è vero perché stiamo crescendo davvero tantissimo e io vi ringrazio davvero tanto e vi lascio anche i link dei miei social facebook e instagram costruito nell'info box così se volete potete venirmi a trovare anche lì e niente noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova videoricetta ciao